Allora, io volevo ringraziare ancora una volta per aver organizzato un incontro informativo perché è fondamentale in questo momento che ciascuno di noi riesca a capire le insidie che ci sono all'interno di quel testo, perché quel testo è fatto da menti diaboliche, se solo le mettesse a disposizione del bene staremmo veramente tutti meglio, perché già partono dal quesito, perché già il quesito che in realtà non è stato inventato al momento, ma il quesito è stato pensato al momento della scrittura del disegno di legge, di fatti quando ci accorgemmo che i titoli avevano in realtà un significato diverso dal contenuto poi del disegno di legge e già provammo ad emendarlo, quindi a modificarlo, ma non ci fu assolutamente verso, non ci è stato verso per nulla, non hanno accolto niente di niente, non è passato un emendamento, quindi anche questo la dice lunga dei metodi utilizzati proprio in fase di produzione legislativa e ricordo anche in quel periodo che ci furono dei senatori della maggioranza che all'interno della commissione affari costituzionali, che è quella commissione che arriva in pancia il provvedimento, perché dobbiamo sapere, magari lo ricordo prima me stesso, che ciascun provvedimento non viene direttamente in aula, ma viene discusso per x tempo in una commissione. La commissione giustamente atta a cogliere il provvedimento e quindi a studiarlo, a fare i primi emendamenti, a discuterlo, era la commissione affari costituzionali. Questa commissione da parte della maggioranza vedeva vari membri, quei membri che in quel periodo avevano espresso delle idee un po' contrarie rispetto ad alcune cose, furono spostati, furono spostati, furono spostati, ma non perché loro volevano andare in un'altra commissione, perché non volevano assolutamente che ci fosse qualcuno che potesse avere un'idea diversa, quindi anche questo era veramente, appunto la dice lunga, era veramente proprio l'anticamera poi di quello che poi avrebbe creato il provvedimento, perché poi in realtà c'è la fase in cui il provvedimento era in discussione e i media furono completamente repistati da una frase ad effetto abolizione del Senato, che non era vera, non era neanche vera neanche il progetto iniziale, non era assolutamente vera, anzi nel progetto iniziale il Senato aveva dei poteri ancora più forti, ancora più rafforzati, addirittura in legislazione europea era l'unico ad avere la facoltà di poter legiferare, quindi era stata tolta la Camera, addirittura quindi era proprio un Senato che aveva un potere enorme di quello attuale. Poi quello è stato modificato e poi mano a mano che andavamo avanti nel provvedimento vi assicuro che i media erano completamente asserviti, come vabbè lo sono già attualmente, io non so se ve le stare accorgendo anche della pubblicità che fanno del referendum, addirittura sono arrivati a far uscire il simbolo del sì con lo sfondo bianco e il simbolo del no con lo sfondo nevo. Anche verde e rosso, io ho notato verde e rosso. Guardi ragazzi, c'è quel messaggio sull'unico, è bello che uno potrebbe dire sì va bene allora bisogna fare ricorso, ok io faccio anche ricorso all'agico che poi sono persone loro, messe lì da loro, ma ammettiamo che pure l'agico non si dovesse svegliare, folgorare sulla via di Damasco, ad ogni buon conto non c'è il tempo necessario per andare poi a bloccare quei determinati messaggi, bisogna essere ancora più veloci ma bisogna essere semplicemente democratici veramente, perché quello veramente non c'è stato, nella fase dove l'iter legislativo era in fase proprio nascente, ma neanche all'atto delle votazioni, perché loro, perché li ho sentiti in un dibattito, quando gli addebitiamo il fatto che anche in aula hanno utilizzato dei metodi che certamente io oso dire antidemocratici, abbiamo utilizzato anche parole come fascisti, perché in realtà tu non puoi andare a fare un'interpretazione dei regolamenti parlamentari inventati lì per lì, ad esempio l'iter legislativo sia delle leggi di bilancio e sia della Costituzione devono avere un iter naturale, normale e quindi non è possibile presentare emendamenti cosiddetti canguro, e loro presentarono un emendamento che fece decadere migliaia di emendamenti, uno potrebbe dire vabbè ma uno deve pur lavorare, e un attimino, quando loro dicono erano 8 milioni e mezzo di emendamenti, e quindi abbiamo dovuto fare questi artifici, non è vero, perché erano stati presentati 8 milioni e mezzo, poi erano stati litigati tutti, e ne erano restati 4 o 5 mila, e vi assicuro che 4 o 5 mila emendamenti è un nulla, è un nulla, quando loro presentarono invece quell'emendamento lo fecero in maniera proprio studiata per far decadere gli emendamenti proposti da una parte della minoranza, chiamiamola minoranza del Partito Democratico, perché quegli emendamenti avrebbero probabilmente devastato il progetto legislativo del governo, e in realtà perché? Perché erano degli emendamenti che contenevano delle norme, le cui norme in fase di votazione, per quelle norme si poteva chiedere tranquillamente il voto segreto, nel segreto il governo andava sempre sotto. Emendamento canguro, decadono tutti quegli emendamenti che potevano infastidire la maggioranza e si va avanti. A un certo punto noi chiamiamo il Presidente della Repubblica a darci una mano, un certo qual senso, silenzio assoluto, uscimo tutti dall'Aula. Loro hanno votato questa deforma da soli, da soli. Cioè veramente fu brutto vedere il tabellone soltanto di un colore. Quindi veramente una deforma costituzionale con un tabellone di un suo colore vuol dire veramente che c'è un problema di democrazia in Italia a quel punto. Perché non stiamo parlando di una legge ordinaria dove magari ci sta pure che la maggioranza imponga la sua linea politica perché deve arrivare a completare il suo programma di governo eppure. Però ci potrebbe anche stare, ma se una legge ordinaria, ma qua stiamo parlando della legge delle leggi, stiamo parlando della carta dei diritti, della carta della democrazia di un paese. Quindi veramente in quei momenti ci sono stati anche delle colleghe, magari la donna è sempre molto più sensibile, che veramente piangevano per la disperazione, perché sapevano quello che stavano per fare. Io veramente quando adesso in questo periodo sto per strada mi accorgo che tantissime persone che sono convinte di votare il sì non sanno quello che fanno. E allora chi sono se e votano il sì? Facciamo l'identichitta di colui che è venuta per il sì, scusami. Se non sanno quello che fanno, perché votano sì? Perché sono terenziali convinti, o altrimenti sono giovani che vivono nel cambiamento. Perché si cambia? Questo è punto. Sì, 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 il cambiamento. Il cambiamento. Il cambiamento. E si convinti e ci sono moltissimi che vengono. E se avesse chiedere che la ricorda è l'Italia, esatto. E allora c'è qualche nozione. E iniziare a vedere le nozioni per ottenere. La cosa è molto più difficile. quale potrebbe essere la propria? La propria scelta è più divenire sulla propria scelta. E se non lo conosce, la propria scelta è più di conoscenza. La propria scelta è più di la propria scelta. Per la propria scelta è più di un po' 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 di un po'. E poi, no, però posso dire un'altra cosa, perdonate, approfitto oggi del Movimento 5 Stelle. Grazie. È una presentazione. È una presentazione. È una presentazione. E sono sempre stata comitata. Grazie. Grazie. Volevo fare un po' di pubblicità. Allora qua è uscito, circa un mese fa, questo libro che è da riferimento. Non si trova perché l'editore non si aspettava il successo che ha avuto. quindi non aveva stampato la sufficienza e è andato a me. Ha chiamato, ha detto, non c'è la faccia. Non si trova. Non si trova. Ecco bene. Renzi in boschi. La riforma costituzionale. La riforma Renzi in boschi. La riforma Renzi in boschi. Al nuovo futurismo. Questo libro è un libro che analizza la riforma costituzionale di Renzi in boschi e quali scenari. Un'analisi spietata. Un'analisi spietata. Un'analisi spietata. Tecnica. Tecnica. Cura del sottoscritto. Ah bene. E del collega a cui mi fa con me che è Francesco Zammartino. Che insegna l'orientale. Esatto. E abbiamo racconto, abbiamo racconto, ci sono molti allievi, ricercatori che sono stati coinvolti. circa 15 anni autori. E questo. Non si trova più. Quindi giusto per farlo sapere, non per comprarlo. Questo libro è circolato in questo mese. Ho cercato di fare un punto, quello che diceva prima, molti non sanno, perché effettivamente i denti kit renziani è un po' come dicevano lei prima, ma è anche come dicevano gli altri. Un po' è il renziano convinto, a prescindere. Un po' è quello che vuole semplificare. Non si vuole attardare ad analizzare il testo. No, ma c'è anche l'altro fenomeno del... Ecco, io non voto no perché io non mi voglio associare al momento 5 Stelle, Sardini, Berlusconi, io sono una di sinistra. Lui l'ha detto prima, il mio no di sinistra ci ha tenuto però a precisarlo. Per dire no, perché c'è stata una strumentalizzazione come tutte le cose che accadono in Italia. Anche questo referendum è stato oggetto di strumentalizzazione ad opera dei vari partiti. Io penso che la risposta sia molto più seduta. Anche questo referendum è stato virato da un grosso centro che ha creato e indirizzato l'opinione pubblica che è passato per i media. è perché anche la figura del Berlusconi, di chi si opponeva al no, praticamente serviva la vittima sacrificale, hanno creato il caso, non vogliono me come Presidente del Consiglio. l'hanno polarizzato, invece non è contro me, è la riforma, bisogna valutare la riforma. Allora è stato manipolizzato, tutto manipolizzato, tutta questa informazione. questo è il vero problema. Tant'è che in giro ci sono persone che parlano identiche con la televisione, anche la finto no di Berlusconi. Grazie. 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 Grazie.